Musica Benvenuti al nostro TG Sport cari amici di Telemolise. In apertura vogliamo dedicare questa edizione del nostro telegiornale sportivo a Lucio D'Addario, un nostro amico di Sant'Elia Appianisi che dopo una malattia sicuramente subito è venuto a mancare all'affetto della propria famiglia. Alla moglie Raffaella, ai figli Maria Antonietta, nostra grande amica, la conosco veramente da anni, una bravissima ragazza, una bravissima professionista, quindi ai figli Maria Antonietta e Salvatore, va naturalmente la solidarietà più affettuosa da parte mia personalissima e da parte di tutta la redazione sportiva di Telemolise. Ieri giornata inaugurale del ventunesimo mondiale di calcio che si sta svolgendo in Russia quest'anno, Italia spettatrice della manifestazione organizzata dalla FIFA. Ieri è partita la ventunesima edizione dei mondiali di calcio, mondiali di calcio che rappresentano il clou ogni quattro anni di quelle che sono le espressioni migliori, naturalmente a livello calcistico del mondo. Mondiali di calcio ai quali l'Italia non aveva partecipato soltanto una volta, esattamente nel 1958, quando i mondiali si svolsero in Svezia e il Brasile si aggiudicò la finale battendo proprio i padroni di casa. Era il Brasile che fece esplodere un astro davvero stellare, si chiamava Pelé e ancora oggi viene ricordato come uno dei migliori giocatori probabilmente mai esistiti. Ebbene, l'Italia guidata da Ventura o Sventura, così come è stato soprannominato poi dopo questa performance, l'Italia guidata da Sventura è stata capace di ripetere quell'unica mancanza dai mondiali di calcio, quindi non partecipa, è a casa e quindi con tutto il danno, anche economico, che ciò ha rappresentato, perché evidentemente quando si giocano i mondiali, gioca la nazionale azzurra, ci sorganizza un po' nelle piazze, nei bar, nei club, è un modo anche per far viaggiare un'economia soprattutto d'estate che potrebbe risultare abbastanza asfittica, quindi evidentemente il danno non è stato soltanto sportivo, perché su quello al limite ci si può anche passare, ma è stato anche di carattere economico per l'intera comunità italiana. Comunque, insomma, ieri si è preso a giocare, si gioca in Russia, ieri c'era uno stadio davvero gremito che ha visto il debutto della compagine di casa contro l'Arabia Saudita, un'Arabia Saudita che faticherebbe molto probabilmente a giocare anche nel campionato di Serie D in Italia. Ebbene, ha vinto la Russia con un punteggio largo, 5-0, il raggruppamento è il raggruppamento A di questi mondiali, hanno segnato Gasinski al dodicesimo, Cheryshev al quarantatresimo del primo tempo. Poi nella ripresa i russi, che naturalmente dimostravano sul campo una superiorità abbastanza schiacciante, sono andati ancora in gol al ventiseesimo con Giubba, ancora il quarto gol realizzato per la doppetta personale da Cheryshev e nel finale, proprio in pieno recupero, c'è stato il quinto gol realizzato da Golovin. Il programma di oggi per i campionati del mondo, mentre vi stiamo parlando, stanno giocando Egitto-Uruguay per il girone A, alle 17 per il raggruppamento B Marocco-Iran e alle 20 per il girone C giocheranno stasera Portogallo-Spagna. Basket femminile di serie A2, si arricchisce il roster della Molisana Basket Campobasso, arriva anche la seconda new entry, si tratta di Emilia Bove. Emilia Bove è nata a Caserta il 17 marzo 1988 e lei è il nuovo lungo della Molisana Basket Campobasso. Si arricchisce con un elemento di spessore il roster 2018-2019 del club del capoluogo. Cresciuta nella Pantera Caserta dal 2005 al 2013, ha giocato a Napoli con diversi club tra 1 e a 2. Nelle ultime 5 stagioni ha calcato solo i parquet della massima serie nazionale, tre stagioni consecutive con l'Orvieto, poi Umberti dello scorso campionato con Vigarano. Passato azzurro per la nuova ala pivode Fiori d'Acciaio, nel 2005 agli europei Under-18 in Ungheria e nel 2008 partecipa agli europei Under-20 svoltosi in Italia. Elemento sicuramente di spessore per lo staff di coach Sabatelli che oggi contra due new entry, la lapivo Bova, la playmaker Porcu. Tra le riconfermata, ultimo in ordine di tempo, la lapivo Veronese e Laura Reani, il capitano Roberta Di Gregorio e Giulia Ciavarella alla piccola della Magnolia Campobasso che è stata al centro delle attenzioni dei media nazionali per l'oro ottenuto assieme alle compagnie di squadra dell'Italia Basket Femminile 3 contro 3 ai mondiali di Manila nelle Filippine. Per quanto riguarda la questione Under, la Molesana Basket Campobasso anche quest'anno coinvolgerà le ragazze di tutta la regione per allestire il settore giovanile e femminile che prenderà parte i tornei di fuori regione e ci sarà anche chi verrà aggregato in prima squadra. L'inizio del campionato di Serie A2 è previsto per l'ultimo weekend di settembre ovvero il 29 e il 30, ultima giornata invece in programma il 27 aprile con l'unico turno infrasettimanale previsto in data 25 aprile. Cinofilia, tutto pronto al contato della Molise di Santa Croce di Magliano. Domenica è in programma il raduno non competitivo delle antiche razze meridionali da lavoro organizzato dal dottor Flavio Bruno. Nel pomeriggio è previsto un convegno dedicato al Mastino abruzzese. Calcio di Serie D, il Campobasso dopo aver presentato progetti e nuovi dirigenti al lavoro per l'organico per la prossima stagione. Ancora da sciogliere il nodo sulla nuova guida tecnica Rosso Blu si lavora anche sul discorso impiantistica. Luca Tilia, prima di tutto benvenuto a Campobasso conferenza stampa dove si sono illustrati un pochino i progetti. La prima parola d'ordine è stata riorganizzazione della società. Si riparte da zero? Sì, si riparte da zero, come dicevamo. Purtroppo ho trovato una società forse da un certo punto di vista è meglio perché non c'era veramente niente. Con la morte nel cuore per quello che ha speso la famiglia De Lucia io sono rimasto basito quando ho sentito la cifra del presidente De Lucia spesa l'anno scorso e dalle mie parti si dice chi c'ha il pane non c'ha i denti chi c'ha i denti non c'ha il pane. Quest'anno saremo molto più parsimoniosi saremo molto più determinati però tutto sommato che non abbiamo trovato niente questo può essere anche positivo trovare un terreno vergine dove piantare iniziare a piantare delle piante che speriamo possano diventare l'alto fusto. Assolutamente avete detto che si chiuderanno tutte le difficoltà che c'erano pendenti si penserà al futuro avete detto non vogliamo dire puntiamo a vincere però insomma l'obiettivo è quello di impiantarsi e guardare al futuro in categoria superiore. Siamo in serie D le componenti sono veramente tante come si dice in maniera banale la palla è tonda e noi punteremo a vincere la nostra ambizione è quella di puntare a vincere però mi sembra veramente prematuro il mese di giugno poter fare dei proclami mi sembra anche predestuoso non vogliamo assolutamente accendere fari nei confronti di nessuno non vogliamo essere presuntuosi partita per partita però noi la nostra ambizione un po' come quella di tutti penso è quella di vincere proveremo a vincere. Un'ultima cosa coinvolgimento del territorio sia come collaborazione di tutto l'ambiente ma soprattutto per quel che riguarda lo stadio perché insomma ci sono alcune cose che non vanno? No, lo stadio è uno stadio bellissimo uno stadio fantastico io uno dei motivi perché sono a Campobasso è proprio lo stadio perché tutti penso che ogni manager ogni persona che si avventura nell'azienda calcio sogna comunque uno stadio sempre pieno e questo è uno stadio che può diventare diventare pieno però l'amministrazione ci deve dare assolutamente una mano senza la mano dell'amministrazione qualunque questa sia non ce la facciamo a fare calcio a Campobasso non riusciamo perché la struttura è veramente troppo importante Ad Isernia conferenza stampa per la società Bianco Celeste pronta a dare il via alla prossima stagione Mario Mariani il campionato di eccellenza con la vittoria dell'Isernia si è concluso da pochissimo ma la dirigenza di Isernia non si è mai fermata sempre attiva per portare avanti il progetto di queste Isernia FC ma soprattutto il progetto di portare quante più persone vicino alla squadra Esatto hai detto bene il campionato è finito da un mesetto se non sbaglio e noi non abbiamo mollato un giorno un solo minuto a lavorare anche se in silenzio a lavorare sia per cercare di coinvolgere più persone possibili ma oltre al fatto economico ma proprio per coinvolgere la cittadinanza perché la squadra bisogna capire come ho detto pure altre volte non è di Mariani Biscotti o d'altri ma la squadra è della città di Isernia noi possiamo dare il nostro apporto e lo manteniamo però chiaramente ci vuole una spinta una partecipazione sia da parte della cittadinanza che da parte dell'amministrazione Ecco quindi ad oggi ci sono delle certezze da cui ripartire il sodalizio Mariani Biscotti è più saldo che mai continuate a lavorare fianco a fianco quindi come mi hai rassicurato a telecamere spente il Isernia Indì si iscriverà su questo non ci sono dubbi già questo è un gran punto di partenza Sì hai ragione però sai fare un campionato farlo in certo modo essendo uno che da anni che sta nel calcio chiaramente fare un campionato diciamo non con gli stimoli giusti si fa però bisogna potenziarlo perché nel calcio l'unico ritorno come ti dicevo prima l'unica soddisfazione sono la vittoria fare dei buoni risultati perché il resto non è che ci sono investimenti la parola investimento è una parola una bestimia sono soldi che uno mette per poter far divertire noi stessi e più tutta la cittadinanza Ovviamente come si è già detto in passato sempre qui nelle mura del silenzio del comune di Isernia un conto è presentarsi con la forza di due persone un conto è presentarsi con maggiori forze Perfetto come dicevi te con la forza di due persone puoi fare tutti gli sforzi possibili immaginari ma chi ha un po' di ragione un po' sa che è impossibile dare una squadra competitiva in due persone se c'è l'aiuto l'apporto spero come sembra che ci sia di un po' di gente chiaramente si può pensare più diciamo non a vincere il campionato ma a fare un campionato tranquillo Concedimi uno slogan più siamo più ci divertiamo Perfetto più siamo più ci è giusto perché anche perché a volte è bello pure che io vedo sempre non so se gli amici di segna se la prendono o no ma io vedo sempre l'agnone per esempio l'agnone hanno un orgoglio personale che fa tremare io ho visto anziani di 90 anni che quando si sono salvati piangevano oppure partecipano anche che mezzo euro con un centesimo però sentono l'attaccamento sarà l'orgoglio perché è una cittadina interna sarà uno so che cosa ma alla partita ci sono mille persone la domenica a prescindere se il campionato lo vince o si salva ad agnone nel weekend si prenderà una decisione in merito al nuovo tecnico mecomone i fratelli colaizzo dovranno fare il punto sulla situazione intanto il settore giovanile del club granata ha organizzato il sedicesimo torneo nazionale nuove speranze domenica al civitelle in campo la categoria esordienti 2005-2006 calcio balilla tre le date estive già fissate del torneo itinerante organizzato da tribisonno biliardi e giochi ripabottoni prima con le torto e castropignano poi saranno palcoscenici di tornei outdoor il 20 giugno si celebra in tutto il mondo la giornata mondiale lo staff tribisonno biliardi e giochi ha organizzato una tappa presso la struttura d'accoglienza di ripabottoni calcio regionale prime operazioni di mercato per le squadre d'eccellenza metà giugno diverse squadre nel campionato di eccellenza sono partite in anticipo per programmare la nuova stagione una di queste è sicuramente il vasto girardi che sta lavorando per vincere il prossimo campionato con la riconferma dei pezzi grossi della rosa arrivata praticamente già nel post-match play-off contro l'agropoli su tutti Ruggeri di Lullo e Petrone il direttore sportivo crudele sta lavorando insieme al presidente di Lucente per portare sulla panchina alto molisana il tecnico Francesco Farina praticamente una garanzia per la categoria un mister navigato che conosce bene il campionato e può portare il vasto Girardi a compiere l'ultimo step di crescita anche in previsione della serie D chiaramente il progetto con Farina potrebbe essere ad ampio respiro anche in ottica futura la società inoltre conta di poter rientrare al di Tella con i lavori all'impianto per evitare il pellegrinaggio fuori sede come successo nella stagione chiusa da meno di un mese notizie dal campionato a termo l'azzeramento della società della passata stagione la continuità dovrebbe comunque essere garantita con una cordata locale con l'iscrizione e una squadra di giovani difficile la fusione tra le due squadre di Piedimonte ma tese il Treppini e l'FVP salvo colpi di coda continueranno ad andare per la loro strada due team differenti in eccellenza Molisana il Treppini ormai da anni presente sulla scena mentre l'FVP neopromosso dal torneo di promozione il campo di Pietra sta valutando la conferma di Mimmo D'Aversa sulla panchina rosso-blu mentre a gamba tesa potrebbe rientrare in panchina l'ex tecnico di due stagioni fa Franco Longo arriccia il presidente Cicotelli e alla ricerca di un supporto societario per la nuova stagione nessun problema per Roseto e Pietramonte Corvino le due squadre pugliesi saranno regolarmente ai nastri di partenza del prossimo campionato cambio in panchina per il Venafro con il rientro di Peppe Capaccione al posto di Urban con la conferma anche per Nicola Panico in attacco ex capo canoniere della scorsa stagione anche a Guglionesi quasi certo l'addio di mister D'Ambrosio che sta valutando proposte da categoria superiore torneo di Ripa Limosani ieri al Marco Vita Antonio il Baranello ha superato 2 a 1 la città del Vaticano gara valida per il girone C a seguire per il raggruppamento B Whatsapp ha vinto 4 a 1 su Autopia Luna Mora da Rino oggi ancora serata di gare Trivento assicurazioni Sernia 90 minuti del girone B a seguire per il raggruppamento C Barbershop Lemmo Service affronterà all'Aurora Campobasso a proposito del Ripa Limosani adesso impegnato proprio nel torneo estivo casalingo reduce dal successo della Molise Cup ai nostri microfoni Simonetti Simone Simonetti difensore del Ripa con il trofeo in mano partita dura primo tempo abbastanza buono da parte vostra penso che avete un po' amministrato eh sì penso che anche da delle condizioni climatiche insomma che erano quel che erano dopo il 2 a 0 abbiamo cercato di amministrare penso che ci siamo riusciti alla grande abbiamo rischiato quasi nulla e penso che questo sia il premio per una stagione comunque che abbiamo fatto molti sacrifici abbiamo siamo arrivati ai playoff abbiamo cercato di giocare fino alla fine però la Coppa almeno questa dovevamo portarla a casa Simone tu Francesco Nardacchione siete diciamo i giocatori un po' più grandicelli quindi che soddisfazione c'è lavorare con ragazzi molto più piccoli di voi e vincere ovviamente allora devo ringraziare soprattutto il mister che ha avuto fiducia in me nonostante i 45 anni suonati finalmente arriva grazie a questo gruppo si è riformata una grande società a Ripa dopo un po' di tempo che purtroppo è mancato e adesso speriamo che siano le buone basi per ripartire alla grande il futuro infatti di questo Ripa Simone come lo vedi speriamo che con questa Molise Cup speriamo magari un ripescaggio se succede qualcosa in promozione la società c'è il pubblico anche quindi penso che le condizioni ci sono il campo anche il campo soprattutto la struttura penso che sia una delle migliori in Molise in questo momento quindi penso ci siano tutte le basi per poter tornare in promozione e fare bene un'ultima cosa il futuro tu personale hai detto che hai 45 primavera vorresti giocare ancora oppure appendiamo i scarpini al chiotto non lo so questo diciamo che è un ben finale forse è arrivata l'ora di appendere da vincente penso che sia però vediamo magari sotto un altro ruolo però penso che questo sia un ottimo finale Danza domani il palazzetto dello sport di Riccio ospiterà il saggio spettacolo di fine anno di danza classica e moderna della Fitness Dance Academy della maestra Antonella Tronca lo spettacolo con ingresso gratuito avrà inizio alle 19.30 torneo 3 contro 3 calato il sipare sulla prima edizione bilancio positivo per le squadre Silvio Tedeschi del Chelsea Consul Brokers dunque è arrivata la sconfitta nella finale di Champions League contro il Manchester City qualche rammarico perché all'ottavo del secondo tempo eravate sopra 3 a 1 si dispiace perché abbiamo giocato un'ottima cara è stata una bellissima finale quindi non ci non ci possiamo rimproverare nulla però con un po' più di attenzione forse il risultato sarebbe stato diverso però di fronte ci sono anche gli avversari che hanno hanno meritato e quindi va bene così è stata comunque una bella stagione per voi avete creato questo gruppo e vi siete tolti diverse soddisfazioni sì abbiamo iniziato così per gioco per ritrovarci e passare una serata insieme poi pian piano sono arrivati i risultati abbiamo perso solo due gare che si sono state fondamentali per per noi però comunque il risultato è ottimo e quindi anno prossimo sicuramente ci guarderanno con occhi diversi e quindi ci temeranno assolutamente nel complesso insomma la manifestazione è piaciuta a te insomma la tua squadra sì sì nulla da dire penso che non sono il primo che fa queste osservazioni oggi ha vinto ha vinto un gruppo di amici che hanno organizzato questo evento e che ha letteralmente spopolato sui social si parla solo di questo evento e quindi questo è il risultato più bello per gli appuntamenti domani sera alle 19 e 15 la chiesa cattedrale di Campobasso ospiterà il coro musica nova di Roma diretto da Fabrizio Barchi in collaborazione con l'associazione Amici della Musica di Campobasso il concerto in memoria di Don Pasquale Pizzardi bene è tutto per questa edizione del nostro TG Sport buon pomeriggio di Don Pasquale 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 di Don Pasquale